Partiranno lunedì 11 gennaio gli screening di massa Pescara e proseguiranno fino a giovedì 21 gennaio. Chi volesse aderire fa sapere la ASL di Pescara per poter eseguire il tampone deve prenotarsi sul link che si trova sul sito del comune di Pescara. Al test rapido possono aderire tutti i cittadini residenti o domiciliati nel capoluogo adriatico, purché di età superiore ai 6 anni. Non può partecipare al programma di screening chiunque abbia sintomi che indichino un'infezione da Covid-19, chiunque sia attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo, chiunque sia stato testato recentemente ed è in attesa di risposta, quelle persone che sono attualmente in quarantena o in isolamento e persone che abbiano già programmato una data per un tampone, i bambini sotto i 6 anni e coloro che sono in carico presso case di riposo, case di cura e strutture residenziali. Non potranno parteciparvi anche gli operatori sanitari che sono sottoposti a screening della ASL. Le postazioni per i test rapidi antigenici si trovano presso la stazione di Porta Nuova a Pescara, in piazza Berlinguer, nel centro fiere di via Tirino, sempre a Pescara, e infine presso il pattinodromo ex Gesuiti. Con altro personale medico e infermieristico, la ASL comunica che sarà poi possibile aprire altre tre postazioni individuate presso la tenso struttura in via Carlo Alberto dalla Chiesa, il Palarigo Piano e la sala polifunzionale di San Silvestro. I test si potranno effettuare nei giorni 11, 12 e 13 gennaio tramite prenotazione, mentre dal 14 gennaio basterà mettersi in fila alle postazioni. Si aderisce su base volontaria il test gratuito e occorre portare con sé carta d'identità, tessera sanitaria e modulo di consenso scaricato dal sito del Comune. Entro tre ore dal tampone arriverà la comunicazione solo se le persone risulteranno positive. In caso di positività si dovrà rimanere in quarantena, almeno fino all'esecuzione di un secondo tampone, in questo caso di tipo molecolare.